Per Omar Maglione i successi non finiscono mai. Domenica scorsa in Sicilia, nel corso della 65esima Coppa Nissena, il campione sassarese si è laureato tricolore per la nona volta. La vittoria gli arride sempre nel campionato italiano a velocità montagna e ancora come alfiere della scuderia CST Sport. Alla guida della Sella Honda, gommata Evon, è arrivato il terzo trionfo nel gruppo dei prototipi E2 SC, grazie al secondo posto conquistato a Caltanissetta nella sua categoria e il gradino più alto del podio nelle vetture da 2.000 di cilindrata. I 5.450 metri del complesso circuito nisseno hanno impegnato il pluricampione sardo fino al limite delle possibilità offerte dalla sua vettura, sbaragliando una concorrenza che poteva contare su maggiori cavalli. Una riuscita spettacolare che assume ancora più valore alla luce di un esordio stagionale vissuto tra alti e bassi, con un nuovo prototipo le cui potenzialità erano tutte da testare. La svolta di maggio con la vittoria Nevegal e il primo posto di Rieti a luglio sul tracciato reso in fido dalla pioggia hanno permesso a Magliona di risalire posizioni in classifica fino al successo di domenica. Il driver sardo nel post Coppa Nissena ha ringraziato il team che l'ha supportato durante la competizione. Con Tenacia abbiamo dimostrato insieme di saper scrivere qualcosa di significativo, partendo da un foglio bianco e arrivando ai vertici. Non avevamo una base già colladata ma ci abbiamo creduto e la crescita è stata evidente seppur sofferta. Non abbiamo mai mollato, ha sottolineato Omar Magliona.